Promuovere l'integrazione sociale e l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disturbi psichici. Questi gli obiettivi di Insuperabile, progetto pilota promosso dalla cooperativa sociale Picasso con il contributo della Fondazione Tercas e il patrocinio dell'Asle di Teramo al Comune di Montorio. Andare oltre le istituzioni pubbliche, quindi oltre gli enti locali come l'Asle, il Comune, eccetera, e aprire possibilità di inserimento per la diversabilità anche nelle cooperative private e nelle aziende e sensibilizzare quindi a questo tipo di interventi. Per partecipare a questo progetto di rinserimento i pazienti sono già comunque stati preparati? Allora sì, sono utenti presso il CSM di Teramo. Sono utenti che noi seguiamo da anni e che iniziamo a fare un progetto riabilitativo. Quindi il primo step è la presa in carica, successivamente viene fatto comunque un compenso di tipo psicopatologico con un assettamento di tipo farmacologico e dopo aver fatto questo processo, quindi ridato le abilità che possono essere quelle di competenza, successivamente loro entrano in una lista che noi abbiamo per le borse lavoro e il progetto Armonia e nel momento in cui c'è un ente che ci fa la proposta dell'inserimento, noi iniziamo con un protocollo molto rigido, l'individuazione della persona in base alle competenze che è riuscito a sviluppare nel corso degli anni. È importante per il territorio soprattutto perché siamo all'interno di aree che come vengono definite sono aree svantaggiate, quindi lo svantaggio all'interno di aree che sono già di per sé svantaggiate. E qui c'è stata insomma una rete oltre la parte privata, rappresentata dalla cooperativa PIVA, Picasso, ma anche dei servizi della comunità montana che sono messi a disposizione, oltre alla ASL che è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.